Salve, in questo video parliamo di 10 cose meravigliose di Ben Diehl. 1. Lo stile della serie classica. Un capolavoro di serie animata ed unica, da notare le sfumature. 2. Gli alieni. Sicuramente tutti gli alieni hanno le proprie abilità ma è l'argomento principale della serie. 3. Le serie Alien Force e Ultimate Alien. 2 serie animate apprezzate, non citeremo Universe e il reboot perché orrendi nel comparto grafico. 4. L'alieno Inferno, che pure nei concept si chiamava così. 5. Alien X, d'e anche se sembra chiamato così dalla pronuncia in italiano in originale è un semplice Alien X. 6. Gli antagonisti. Vilgax è il primo ad apparire nella serie e a mostrarsi ma bene sicuramente anche il primo umano ad apparire nello schermo e nella serie, da 10enne a 16enne supereroe e figo, in italiano era doppiato dallo stesso doppiatore sia da bambino che da ragazzo. Ritornando ai cattivi, molti di loro hanno design fantastici. 7. Ben 10 è ispirato a un fumetto della DC Comics intitolato Dial H for Hero, molto simile ma ci sono eroiche alieni. 8. In The Secret Saturdays ci sono presenti riferimenti che collegano le due serie degli alieni e di questi criptozoologi, pure un episodio speciale di Omniverse. 9. Il Multiverso. Ben 10 ha un multiverso eccezionale. 10. Molto bello e con tanti ben alternativi. E per finire con il numero 10. Ben 10 è creato da un gruppo di artisti conosciuti come Manofaction, che hanno prodotto anche dei cartoni animati e tanto altro. Grazie ragazzi!